Prima medaglia azzurra a Londra 2012 e adesso la proclamazione a miglior sportivo della Toscana. Lui è il tiratore Luca Tesconi, scelto dal governatore Enrico Rossi come atleta più rappresentativo della regione e dal quale ha deciso di assegnare il premio Pegaso per lo sport. Di fronte alla nutrita platea del Salone Brunelleschi e dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, Tesconi ha ricevuto il riconoscimento dalle mani dell'assessore regionale Salvatore Allocca e da quelle del numero uno del CONI Toscana, Salvatore Sanzo. Ricevere un premio in casa dalla mia Toscana è sempre un grande onore, tra l'altro è il primo grande premio che poi ricevo in Toscana, quindi sì, mi fa tantissimo piacere essere qua oggi. Stagione da incorniciare per Luca Tesconi che oltre ai successi olimpici adesso sta riscuotendo il favore della critica per la sua mostra fotografica a sfondo sociale, un viaggio per immagini in quelle che un tempo venivano definite volgarmente le case dei matti. Proprio questo è stato uno dei motivi che ha spinto la regione a scegliere Tesconi come vincitore del Pegaso per lo sport e per la sua rappresentatività a livello non solo sportivo ma anche sociale e culturale. Mi fa veramente un grande onore, un grande piacere che poi sono stato scelto anche oltre diciamo alla vita sportiva, anche perché da sempre sono stato impegnato anche non solo con lo sport ma anche a livello artistico, fra virgolette, perché ho sempre studiato arte e mi sono sempre affacciato su questo mondo, quindi è veramente qualcosa in positivo in più. Il valore dello sport non è solamente il gesto atletico e la prestazione ma è anche la costruzione di modelli positivi. Un vero atleta è sempre anche un uomo o una donna che sa essere totalmente integrato nella propria società e che sa dare esempi positivi. Questo è il valore che noi diamo allo sport, tanto che noi lo consideriamo davvero uno strumento del welfare, uno degli strumenti fondamentali per migliorare le condizioni di vita, quelle non solo della salute fisica ma anche relazionali, del benessere complessivo. Questo è il valore che sta nello sport e che è quello che vogliamo preservare. Tanti gli sportivi presenti dall'ex GT della Nazionale di Ciclismo, Alfredo Martini, icona delle due ruote, fino a Fiona Make, svestiti i panni dell'atleta, adesso veste quelli dell'imprenditrice. Da poco infatti ha lanciato un nuovo brand tutto toscano legato al settore moda. Quasi tre anni sto facendo stare lavorando sopra, finalmente abbiamo trovato il momento giusto, anche dei prodotti giusti e poi adesso spero andiamo a vendere. Sì, ho una nuova avventura con la migliore amica mia, siamo 12-12 perché siamo nate nel stesso giorno, stesso anno che non si trova ogni giorno, capito? Siamo i migliori amici di tutti i cuori, abbiamo tante cose in comune. Io sono una che deve lavorare o vuole fare qualcosa, anche per provare, anche se fallisco, non lo so. Però se ho l'istinto di una gara o una sportiva, che vado e batto la testa sul muro, anche se non va giù e faccio qualcosa, se va tutto bene, va bene, se no pazienza.